Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Oggi abbiamo gli highlights dell'ultima partita di andata di campionato di B2 contro il Pozzuoli. E nulla, quindi vi lascio agli highlights, vi ricordo di iscrivervi al canale, di lasciare mi piace, di attivare la campanella delle notifiche e nulla, buona visione! Grazie a tutti! 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 Grazie! Guardate! Grazie a tutti! A presto! A presto! no